A Pescara sono 18 milioni che, combinati con gli investimenti privati, generano una somma totale di 58 milioni di euro. Interventi per 58 milioni di euro che oggi, apprendiamo dal governo centrale, sono sospesi per due anni. È una scelta che i sindaci italiani, non solo il sindaco di Pescara, ma tutti i sindaci italiani, contrasteranno, perché le nostre città hanno bisogno di ripartire proprio dalle periferie. Questo era un portato del governo Renzi, non è il diavolo, è un'ottima misura che va mantenuta, a prescindere dal fatto che la targa sia di Renzi o meno, perché le città italiane tutte hanno bisogno di questo tipo di investimenti. Faremo tutti una battaglia, tutti intendo il sistema dei sindaci, perché io stamani già mi sono confrontato con il mondo del lanci, naturalmente, perché a prescindere dal colore politico questa decisione dovrà essere contrastata. Sappiamo che dopo la prima lettura al Senato ci sarà una seconda lettura alla Camera e ospichiamo che si possa cambiare l'idea rispetto ad un piano già avanzato che sicuramente reca effetti benefici per la città. Gli Pietrantoni è un brutto colpo per le periferie delle nostre città, anche per la periferia di Pescara che perde 18 milioni di contributi. Sì, un brutto colpo, questo è il regalo del neonato governo 5 Stelle, Lega Salvini. Hanno bloccato questo finanziamento, i lavori stavano per partire, a Pescara importantissimi lavori, e hanno ritenuto in modo irresponsabile di bloccare questi finanziamenti. C'è stato un lavoro dietro di anni, sono arrivati nuovi ed hanno deciso di bloccare. Questo è il regalo che hanno fatto Pescara e Pescaresi. Un brutto colpo anche perché i lavori appalti erano pronti a partire. Sì, erano già pronti a partire, soprattutto un'opera importantissima come il Pendolo, ma i lavori a Zanni, a Fontanelle, a Borgo Marino Sud, insomma erano tanti i lavori che avrebbero reso la vita e la qualità della vita dei cittadini di Pescara e delle periferie sicuramente migliori.